A fa, ci proviamo a fare questo collo acetoni? Siamo in Abruzzo, questa è una parte montuosa che sta dall'altra parte della Roma L'Aquila diciamo rispetto a Campo Felice, siamo vicino al paese di torni in parte volevamo provare ad arrivare a 1800 su questo collo acetoni se ci riusciamo ma il tempo non so se ce lo permetterà, vediamo un po' un'altra parte della Roma L'Aquila Grazie per la visione 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 Grazie per la visione